Buongiorno! E porca! Stiamo facendo un video! Olga, guarda che la ti pare pure tu! Non so il bastone che c'ho dietro, c'ho tutte queste attrezze e non so cosa fare. Buongiorno, siamo arrivati qui a questo posto che è in questa immagine come mostra il bel tapetino. Entriamo dentro l'inferno di Scostù. Sta da cinque, questa destra. Sta da cinque. Tutti i nostri dei giornali dove sono le moche ammazzate. Lì vediamo una Barcellona. Chi chiamava Barcellona? Tra poco incontreremo alla mia destra una grandissima Olga. Non l'ho incontrata. Dove cazzo sta? Quelli sono i piedi di Olga. Buongiorno! 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 Eccolo! Stavo illustrando i panni. Sarà quattro! Sarà quattro! Stai un po' con tutti oggi a quando ho sentito. Tu devi montar così oggi. No, non devi mettere quello dell'attrezzo. Questi erano i panni. L'attrezzo! L'attrezzo! L'attrezzo io non lo metto. E vabbè! Il bagno. Luogo di riflessione e confusione. Facci questa. Non c'è questa. Non c'è questa. Non c'è questa. Non c'è questa. Cioè questa si sveglia da così. In realtà la costruzione. Diciamo che abbiamo scoperto che accoppiata con me di Stefano esce fuori... Ma che c'ha la cervicale che è? Vendi a destra. Grazie. Giustamente il contratto io. Sarà te. Sarà il casco dei tappuccini. Tutto il materiale del lavoro. Tutto il materiale tuo. Volevo un attimo spiegare la situazione stamattina. In quanto trovandomi qui presso Industria Immagine. Ho trovato la sottoscritta Iello. In una situazione particolarmente non favorevole. Purtroppo posso... Devo... Devo purtroppo constatare che la situazione è grave. Dai, ragazzi. Non devi andare così a una lisa. No, no! Sono uscita così! No, no! È sala 2, è sala 3. Dai, il Superman! Chi va entrù la salsa è? È la sala state e la devo fare. È la sala spirito e la devo fare? È la sala spirito, ma io lo vedo come è. Ha ha. Faccio dentro marcia. Sa, hai manco! Ecco qua. Che devo fare, signori, io non ce la faccio più. Ci siamo. Non ce la faccio più, non ci siamo, proprio. Ci siamo. Ci siamo, non ci siamo, non ci siamo. Ci siamo, non ci siamo, non ci siamo. Non ci siamo... Tu deve fare il giro con tutte le persone però. Eh? Dai, cazzo! ce l'ha fatta, ce l'ha quasi fatta, vai vai ancora fai lo speaker vai vai aspetta con la sala chiusa aspetta con la sala chiusa si posso morire vai vai quasi finita è la sua camera sta per morire è la macchina è la macchina è la macchina è la macchina devi anche remotarmi gli MX eh ma non si vede l'uno con la piccola specie è una forza ma non lo senti ho paura no tranquilla vedo la gente è morta la testa è morta